Musica Avevano studiato nei minimi dettagli utilizzando anche tecniche da intelligence il colpo lampo da 80.000 euro ai danni del laboratorio orafo alle mie spalle di via Caravaggio in zona Giotto. Adesso sono finite in manette le menti della banda accusate di rapina e lesioni. Si tratta di un investigatore privato e del suo braccio destro, entrambi di Perugia, ritenuti gli autori non solo del colpo aretino ma anche di un altro messo a segno nella provincia di Perugia in una sala scommesse. Le vittime in entrambi gli episodi erano state aggredite, abbassonate e stordite con spray urticanti. La prima rapina si era consumata lo scorso 26 marzo in una sala scommesse di Ellera di Corciano. Il titolare era stato prima immobilizzato e pestato, poi erano stati sottratti 36.000 euro. Il secondo colpo, messo a segno nel giro di qualche minuto, risale invece allo scorso 18 maggio. In quel caso i banditi avevano sfondato il vetro del laboratorio aretino per poi tramortire l'orafo e razziare i preziosi per un valore di circa 80.000 euro. C'erano di aprire la cassaforte, diciamo in 15 secondi poi l'ho aperta, poi mi hanno buttato a terra, intanto loro hanno fatto razia di tutto. Poi uno di questi qua mi ha chiesto dove era il registratore della telecamera e hanno strappato tutti i fili, si sono portati via il registratore e poi alla fine mi hanno buttato per terra, mi hanno legato le mani di dietro e sono scappati tutti. Adesso è caccia ai complici nella rapina aretina, infatti i banditi erano almeno 5, 4 dei quali parlavano con un accento dell'esta mentre un quinto aveva un'inflessione siciliana.